Il direttore del Pino Europa e il normale arriva. Maria Mosca signori, Maria Mosca. Un applauso di ninety uomini. Un applauso di tutti gli uomini. Giu-Di Ters. Questa per ieri Giu-Di Ters. Questa. Mara Epoch. Questa. Questa. Grande vittore di Maria Mosca. Arriva ora. Oggi a Saberi. Isaglia. Poi temo pure la ruota. Il preguardo. arriva ora arriva intanto anche Vita Pucchi Skype Mauro, è la vostra questa è la prima non è la maggioranza non è la maggioranza oggi scattiamo la maggioranza grande ritorno di Oriamo un applauso, un applauso per Elio per Lato passaporto lo vetti per la scuola in questo momento arriva il momento di Lorenzo con Lorenzo, con Lorenzo, con Lorenzo e con Lorenzo arriva Ottimo e Gare del Cerebro Valentina Ferreza arriva Catista l'Urbe, arriva l'Urbe l'Urbe, l'Urbe, l'Urbe l'Urbe, l'Urbe